Qui con Paolo Cattaneo nel pre-partita di Villa Franca Fossano ti chiedo partendo un attimo indietro che periodo è questo per il Fossano Calcio? Siete riusciti a ritrovare la vittoria, avete trovato due di fila con due 3-0 tra l'altro di fila vincere aiuta a vincere? Assolutamente sì, è un periodo, quello prima, che facevamo fatica a segnare e su certi errori abbiamo pagato a caro prezzo però le ultime due partite abbiamo limitato gli errori difensivi e l'abbiamo messa dentro quindi due vittorie importanti che fanno morale come dici te, vincere aiuta a vincere e domenica si vuole continuare a vincere Tra l'altro ti chiedo, c'è qualcosa che è cambiato di particolare? Forse dopo la partita col Saluzzo, dopo l'uscita della Coppa c'è stato magari uno step, un gradino che poi ha fatto cambiare l'atteggiamento? Beh sì, perché un 3-0 in casa è pesante e sicuramente ha toccato nell'orgoglio qualcuno me compreso anche se non ho giocato però si vede che qualcosa ha cambiato e non dico che con quella avevamo finito i jolly però era diciamo un'ultima spiaggia perché non potevamo più avere certi risultati certi risultati Adesso ti chiedo, prima della partita col Banchiglia di settimana prossima avrete poi questa domenica con il Villafranca-Piemonte attualmente l'ultima in classifica sta facendo molta fetica nel campionato ti chiedo che partita vi aspettate come la state preparando Qualunque squadra che abbia tre punti a questo punto del campionato vuole vincere ad ogni costo vuole fare punti in ogni maniera possibile quindi noi dovremo affrontarla con la testa più giusta possibile più concreti come abbiamo fatto nelle ultime due e poi si vedrà sul campo Ultima cosa, poi ti lascio tranquillo che campionato ti aspetti da qui in avanti con questo Fossamo che ha trovato forse i binari giusti da seguire? Beh, mi aspetto un campionato equilibrato perché dalle squadre che ho incontrato ce ne sono 4-5 diciamo 4 che possono dar fastidio a tutte la Valenzana non l'abbiamo ancora incontrata me ne parlano assolutamente bene la vedremo poi tra tre giornate mi pare però sì, assolutamente equilibrato Grazie mille, interissimo A te